E così siamo arrivati, capito, pure al governo di Bettino Craxi siamo arrivati, il pentapartito. E noi non facciamo altro che parlare, 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 vedi? Sì, parlare, fammi parlare, dammi una serie. Cinque partiti che litigano l'uno con l'altro, cioè democratici, liberali, allora... Fuma almeno così non parli, lascia parlare. Ah, io fumo, sì, fumo. Perché a me interesserebbe sapere che cosa pensano loro? Allora chiediamelo, Annella, che cosa ne pensi? Un governo di Bettino Craxi con cinque partiti? Ti premo, dimmelo. Secondo me è il compromesso storico. Ma lo dici così? Esatto, è una tragedia il compromesso storico. Annella, da quando hai ereditato questa villa tu non sei più la stessa, Annella. Io sono storica di te. Ma che cosa c'entra che hai ereditato la villa? Ma che cosa c'entra che hai ereditato la villa? No, io non credo, anche tu. Ma come sei stronza, veramente? Ma hai discusso che facevamo un tempo. Ma come? Ma tu non le dici niente? Samu, dille qualche cosa. Mi sei rassegnata. Oppure vogliamo dire di Bunuel che muore di arresto cardiaco per quello che succede? E muore Bunuel, l'ingegno del surrealismo. Ah, Bunuel, il cinema non risolve tutto. Il cinema è uno specchio della realtà. Sì, è una cosa molto divertente che siamo chiusi. E trasmettono il fantasma della libertà con continua interazione. E la so, anch'io adoro. E chi non adora Bunuel, ma fammi il piacere. Sentiamo un po' quello che dice lui. Ma cosa vuoi che ne sappia di questo paese lui? Guarda, di qualcosa, di qualcosa. Un'impressione. Un'impressione, ce l'hai? Ma come può avere un'impressione? Lui è americano, amore, è americano. Americano non vuol dire stupido comunque. Amore, è americano. Perché? Perché qualcuno ha detto che è cretino. Tu hai americano. Ah, 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 ah. Dai, non te la prendo. Hai una punta di rosso che mi fa partire. Ha ragione. Sono sempre stata molto, molto, molto stronta, semplicemente con i politici di un certo tipo. Allora, non ha detto che è il cupido, ma perché devi interpretare le parole? Io, allora, faccio una pazza, faccio una pazza, va, mi preferisco fare la pazza. Che cosa è successo? Samuel? Che cosa è successo? Che succede? Oh, no, niente. Succede sempre. Ma fa una ghiaccia? Ma ti rendi conto che fai un mescolone di tutti gli argomenti? Sono nella melma, nel fango. Ma quale melma? Di che cosa parli? Non c'è più lotta politica, non c'è più niente. Se ne è andato anche qui. Anche lui.